Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo della protesta dei residenti a Ceglie per l'installazione di un'antenna tecnologia 5G. Stiamo facendo valere il nostro diritto alla salute, vogliamo conoscere la verità, vogliamo capire a che cosa andiamo incontro, anche perché è un'antenna posizionata a neanche 3 metri dalle abitazioni. Noi apriamo la porta e abbiamo il 5G sparato in faccia, non è possibile. La gru è già posizionata per procedere con i lavori dall'altra parte della strada ai residenti sul piede di guerra. La loro è una battaglia a tutela del diritto alla salute, ci raccontano. Siamo in via Umberto I a Ceglie del Campo, dove i cittadini stanno protestando da quando è stata autorizzata l'installazione di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile 5G. In realtà si tratta di una riconfigurazione di un sistema già esistente con una tecnologia implementata. Le antenne a Ceglie fanno paura per il rischio che l'inquinamento elettromagnetico possa costituire una minaccia per la salute in un territorio che da anni convive con la presenza di tanti impianti. E non le dico cosa è successo durante la guerra del Kosovo, durante i problemi connessi allo stadio delle vittorie quando nel 1990 sono stati fatti i campionati del mondo. Qui si sentiva Rai 2 sotto le caffettiere, tutti i citofoni sballavano in continuazione con Rai 2. Praticamente noi siamo stati immersi in un forno a microonde per decenni. Noi vediamo queste a pochi metri da qui, ce ne sono cinque su via Angelo Antonio 40, circondate da altre a Carbonara. Faremo una raccolta di fondi perché chiederemo ad ingegneri del settore di fare un'indagine, uno studio sull'inquinamento dell'elettrosmog. Noi andremo avanti sia a livello legale che a livello di protesta. Purtroppo è l'unica cosa che possiamo fare. Parliamo di vertenze di lavoro. Saiga SRL, società proprietaria del Palace, prende le distanze sul futuro dei lavoratori. Ieri la task force regionale da cui è emersa un'altra amara certezza. Nessuna trattativa in corso per la gestione dello storico albergo. Ne abbiamo parlato con il segretario regionale della Will Tux, Marco Dell'Anna. Ennesima convocazione in sede di task force ed ennesima assenza da parte di Saiga, che è la società proprietaria dell'immobile. Ma rispetto agli appuntamenti precedenti sono emersi due elementi che onestamente mi lasciano del tutto perplesso. Il primo è che le indiscrezioni uscite a mezzo stampa nei giorni scorsi circa la presunta conclusione di una trattativa con un acquirente è stata assolutamente smentita da Saiga. E il secondo elemento è che Saiga in questa mail che è inviato alla task force ritiene di non avere alcun obbligo nei confronti dei dipendenti. Quindi una posizione che ci lascia ulteriormente basiti. L'incontro di ieri si è concentrato anche su un'ulteriore proposta che abbiamo condiviso con la task force. Quello che abbiamo condiviso è un percorso che sostanzialmente mira a creare un bacino occupazionale all'interno del quale inserire i lavoratori di Palace per non disperdere comunque un livello di professionalità acquisita. Parliamo di lavoro ma questa volta di orientamento per i giovani. Incontro a Porta Futuro tra studenti delle scuole medie e imprenditori del settore per la tappa barese del Future Days. Sentiamo. Nella nostra terra. Sono poche le persone che studiano, scelgono di studiare le materie scientifiche, molto spesso per degli stereotipi sbagliati. E oggi invece questi ragazzi di scuola media incontrano imprenditori, imprenditrici nel settore dell'innovazione che raccontano loro la loro storia. È fondamentale sapere appassionare le giovani generazioni a quella che è la realtà del futuro e anche ormai del presente. Ci sono tante opportunità e tanti lavori. Alcuni sono nati anche negli ultimi anni, altri sono lavori da pensare. L'appuntamento è quello dei Future Days che aprò da Bari dopo l'esperienza di Torino. L'idea è far comprendere la connessione tra studi e carriere scientifiche. Molto curiosi, molto attivi, molto dinamici e anche consapevoli. Hanno fatto domande pertinenti. Loro hanno incontrato imprenditori, professionisti ed erano molto curiosi del percorso longitudinale. Abbiamo ancora il gap forte delle ragazze perché è un problema più che di preparazione e di competenza perché a parità di voto sono comunque meno sicure verso le materie tecniche e scientifiche. Speriamo di risolverlo anche con questi progetti e non solo. Inaugurata nel campus Quagliariello di Bari la Poli Library, la biblioteca di comunità finanziata dalla Regione Puglia. Il taglio del nastro questa mattina, la presenza del governatore Michele Emiliano. C'era per noi Cristina Ferrini. 27.000 volumi dalla letteratura, la tecnologia, le scienze e le arti. Nasce nel Politecnico di Bari la nuova Poli Library, la biblioteca di comunità finanziata dalla Regione Puglia e inaugurata alla presenza del rettore Francesco Cupertino. Un luogo della cultura moderno con servizi digitali e innovativi a disposizione di università, scuole, professionisti e comuni cittadini. Tutti potranno accedere alla consultazione dei volumi patrimonio della Fondazione Dioguardi. Il taglio del nastro al terzo piano nel campus Quagliarello. Una nuova scommessa per il rettore Cupertino che ha già previsto nella nuova biblioteca incontri culturali ed eventi aperti alla città. Non esclusa l'idea di allungare l'orario di apertura fino a tarda sera. Sarà un luogo aperto alla città di Bari e ai suoi cittadini che potranno entrare qui e incontrare i nostri studenti che verranno qui per studiare e per aggregarsi. Un modo per interpretare il ruolo di università nel XXI secolo. Sempre di più dobbiamo ripartire dai saperi tradizionali, anche dai libri di carta e saper intersecare questi saperi con le nuove tecnologie, col digitale che sarà anche fortemente presente in tutti i sistemi di prenotazione e di consultazione del patrimonio librario del Politecnico. Le notizie del nostro sito www.telebari.it in un minuto e allora ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Alessandra dal nostro sito, il cordoglio del liceo Scacchi di Bari che sul proprio sito istituzionale attraverso i social saluta e ricorda la professoressa Lorsola Tomasino, storica insegnante di lettere, andata in pensione nello scorso decennio ma sempre attiva nella comunità scolastica che si è spenta lo scorso 4 marzo, scrive il liceo Varese di Corso Cavour dopo una breve malattia. Lo scacchi ricorda con gratitudine gli anni dalle spese a servizio della comunità scolastica con la forza gentile scritto di una personalità luminosa in grado di trascinare tutti i ragazzi all'amore per la poesia e la letteratura. Ci spostiamo a Carbonara dove stamattina le assessore ai lavori pubblici e lo sport Galasso e Petruzzelli hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere avviato qualche giorno fa per il restyling del campo Leo dell'Acqua. I lavori sono iniziati e sono già state demolite le tramezzature dell'edificio destinato agli spogliatoi. Il progetto, entro fine anno, prevede la realizzazione di un campo da calcio a sette in erba sintetica al posto del vecchio Campa 11, un campo per la pallacanestro e la pallavolo, una da bocce, un'area giochi per bambini e una per lo sport a corpo libero. Ci spostiamo ad Alberobello e chiudiamo con l'appello dell'associazione Anta Onlus per dei cuccioli di cane infreddoliti e spesati ritrovati in una cassetta per la frutta, schiacciati l'uno sull'altro e bloccati da una rete metallica. Il terrificante ritrovamento a fine febbraio, oggi l'appello adottateli. Sul nostro sito, per chi fosse interessato, tutte le info utili. A te. Ringraziamo Tiziano Tridente. A noi andiamo avanti. È stato presentato a Bari in anteprima nazionale il cortometraggio sull'attività delle donne vigili del fuoco intitolato Noi ci siamo. La presentazione nell'ambito della giornata internazionale dei diritti delle donne. Sentiamo l'intervista al comandante provinciale dei vigili del fuoco, Rosa Deliseo. Con l'anteprima del video nazionale è un'occasione per conoscere l'attività delle donne dei vigili del fuoco. Sì, è un'occasione per far capire che il lavoro dei vigili del fuoco non è esclusiva dell'universo maschile ma anche delle donne, ma non solo. È un momento di riflessione con le altre forze dell'ordine sul ruolo della donna e anche l'evoluzione che c'è stata nella storia, nei vari corpi del nostro ruolo. Cosa rappresenta questo video? Rappresenta sostanzialmente l'attività operativa svolta dalle donne in vari scenari e in tutti i territori della nazione. Per cui ci saranno sostanzialmente varie donne in vari ruoli, da quello operativo della sala operativa, l'elicotterista, la gestione proprio sull'intervento, addirittura la movimentazione di un autogru e poi c'è la gestione di un'attività di coordinamento di soccorso a livello di sala operativa dove ci sono io come comandante e questo è il motivo per cui siamo anche a Bari perché c'è un pezzettino all'interno del video della città di Bari e della struttura vigili del fuoco di Bari. L'ex giocatore biancorosso Umberto del Core ha inaugurato il suo nuovo bar a Bari Vecchia dopo la dedica del gol di vittoria ricevuta da Nicola Bellomo in casa contro il Venezia del Core che sta attraversando un periodo difficile scommette ancora su se stesso con avvio della nuova attività nel cuore di Piazza San Pietro. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. Umberto, l'apertura di un bar in Piazza San Pietro a Bari Vecchia, una scommessa sociale ma anche una scommessa che parte dal cuore per se stessi in un momento particolare della tua vita? Sì, dai, non sto passando un buon momento però ho deciso di aprire un bar, è stata la mia scommessa. Devo dire anche grazie al sindaco che mi sta dando una grande mano. Cosa significa per te in questo momento? Ho realizzato una bella cosa su Piazza San Pietro dove nessuno se l'aspettava. Significa anche restare sul territorio, fare rete? Sì, ho voluto fare questa cosa, sono contento, sono felicissimo, spero che le cose vanno nel verso giusto. Sicuramente andranno nel verso giusto, ti è stato dedicato anche un gol, il gol di Bellomo. Sì, Nicola al di là di essere un calciatore del Bari è un fratello per me, mi ha commosso dopo la dedica che ha fatto. Lo voglio bene, spero che lui veramente fa bene a Bari e porta il Bari in Serie A. Come vedi il futuro del Bari? Lo vedi già in Serie A? Non dico in Serie A, però siamo lì attaccati al secondo posto, quindi sono veramente fiducioso che quest'anno può essere l'anno giusto nostro. Roberto, la tua scommessa comincia stasera e la tua intervista sarà ascoltata nel nostro Tibi Sport, nel nostro programma, cosa senti di dire? Voglio ringraziare tutta questa gente che è venuta qua, dal sindaco, dal direttore sportivo del Bari, tutti i giocatori del Bari e tutta l'altra gente, sono veramente commossa. Adesso andiamo con le notizie delle province pugliesi, presentati oggi nella sede di Anci Puglia, i risultati del progetto Circles a sostegno dell'inclusione sociale e della sostenibilità ambientale in quattro comuni del sud barese. I dettagli da Francesco Russo. Quattro comuni, Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano, sette figure specializzate nel settore dei rifiuti organici, selezionate tra giovani net che non studiano e lavorano e persone a rischio di esclusione sociale, 80 ore di formazione e 2000 cittadini intervistati. Sono alcuni numeri del progetto trasfrontaliero Circles, realizzato in contemporanea in sette paesi del Mediterraneo per promuovere l'economia circolare e sensibilizzare al riuso della frazione organica. Migliorare la qualità significa migliorare tutto il procedimento, migliorare anche il risultato che poi è il compost che è un tocca sana proprio per la nostra agricoltura d'eccellenza di qualità della nostra regione, ma questo progetto ha anche una duplice finalità, non soltanto quella ambientale ma anche quella sociale. A coordinare il progetto in Italia il CIC, il Consorzio Italiano Compostatori. Ha consentito a queste persone di diventare protagonisti, protagonisti in che senso? Hanno imparato cose che non sapevano, hanno imparato a applicare queste cose che non sapevano, le hanno applicate nell'ambito dell'economia civile. Abbiamo scoperto che i ragazzi al di sotto dei 18 anni sono quelli che hanno meno consapevolezza del perché fare la raccolta differenziata. Questo è un progetto fatto per le persone in un territorio ma che, lo dico con enfasi, non finirà qua. Andiamo a Trani dove il Movimento Civico, l'articolo 97, lancia una petizione per mettere in sicurezza Via Falcone. Massimo Pillera. Allora, Curci, l'articolo 97 si è sempre occupato di sanità. Adesso una petizione su Via Falcone ma non potrebbe essere un'arma scarica perché comunque tutti i provvedimenti sono stati già deliberati dall'amministrazione. Inoltre, non essendo un'area 30, gli attraversamenti condosso per via dall'ambulanza non si possono fare? Allora, l'articolo 97 non si è occupato soltanto della sanità, si è occupato un po' a 360 gradi di tutti i problemi di Trani. Mi piace questa domanda e facciamo presente. All'ospedale non c'è più, quindi non c'è più il problema che rientrino le ambulanze con i feriti. Quindi se non ci devono essere qui i dossi non ci dovrebbero essere comunque per tutta Trani. Ma questa non è una zona 30? I dossi sono praticabili solo nelle strade zona 30? I dossi sono praticabili, però noi abbiamo visto, abbiamo delle testimonianze e anche delle esperienze personali che qui la sera specialmente c'è un grave pericolo, specialmente con le attività commerciali, nell'attraversamento. Quindi prima che succeda qualcosa è importante comunque correre ai ripari. Per quanto riguarda gli interventi che abbiamo letto, va bene, siamo felici di questo, ma saremo ancora più felici quando questi verranno messi in pratica. Andiamo a Taranto, fronteggiare l'incremento straordinario dei costi dell'energia. Per questo la Camera di Commercio ha stanziato 150 mila euro in favore delle imprese della provincia ionica. Ce ne parla Angelo Ingenito. È stato presentato il bando Caro Energia 2023 elaborato dalla Camera di Commercio di Taranto per rispondere alle esigenze rappresentate alla fine dello scorso anno da alcune associazioni di categorie provinciali. La misura per la quale l'ente ha messo a disposizione 150 mila euro è integrativa degli interventi nazionali in atto e futuri ed è finalizzata a ristorare parzialmente l'incremento straordinario dei costi dell'energia sostenuto dalle micro-imprese di tutti i settori economici iscritte al registro dell'impresa tenuto dalla Camera Tarantina. Era un impegno che come Camera di Commercio avevamo preso insieme al prefetto nel novembre scorso, proprio nel momento più critico per il Caro Energia rispetto a tutte le aziende e tutte le imprese del territorio, per cui abbiamo provveduto a devolvere una parte di questo importo nel bilancio del 2023. È chiaro che non è la panacea di tutti i mali, è sicuramente un segnale di attenzione nei confronti delle imprese del territorio, così come le associazioni ci chiedevano e ci hanno chiesto più volte, proprio in considerazione di questo momento strategico importante che era la sofferenza che le aziende avevano per il Caro Energia. E andiamo a Lecce dove 40 aziende pugliesi hanno partecipato al Job Day con l'obiettivo di permettere a tutti gli interessati in cerca di occupazione di intercettare le proposte presenti sul mercato. Ce ne parla Fabio Selino. Questa mattina presso le officine Cantelmo il Comune di Lecce, l'assessorato al turismo in collaborazione con ITS, promuove il Job Day dedicato alle professioni turistiche in vista della prossima stagione estiva. Le aziende chiedono a gran voce delle professionalità che non riescono a trovare. Forse è solo una questione di comunicazione, forse è solo una questione di informazione può darsi, ma intanto noi cerchiamo di creare questi ponti. Noi per quanto riguarda ITS cerchiamo anche di essere proattivi rispetto alla progettazione di percorsi formativi che possano soddisfare al meglio le esigenze di questi imprenditori. Siamo soddisfatti di questo primo Job Day che mette insieme la domanda e l'offerta. C'era una chiamata da parte del territorio, da parte degli operatori turisti del territorio, che ci chiedevano una mano per recuperare le risorse umane e per affrontare al meglio la stagione 2023. Il comune si è fatto parte attiva, ovviamente coinvolgendo ITS, ARPAL e ANPAL, quindi i soggetti pubblici deputati a questo tipo di attività. Abbiamo messo insieme le aziende che stanno cercando collaboratori personale e tutte quelle persone, giovani e meno giovani, che cercano lavoro. Creando quindi questa grande opportunità siamo soddisfatti. È il primo tassello di un lavoro lungo. Ci serve per avere un quadro più completo della situazione, per studiare e programmare le prossime azioni in maniera più puntuale. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora un flusso di correnti umidi occidentali interessate alle nostre regioni tirreniche e il nord Italia all'ambito da sistemi nuvolosi in transito sull'Europa centrale. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità, con degli annuvolamenti che insisteranno sul versante tirrenico, tra poco vedremo anche qua con qualche pioggia, e il nord che di tanto in tanto viene attraversato da qualche sistema nuvoloso, ma in realtà al nord, dove c'è bisogno di pioggia, di precipitazione non ne avremo almeno significative. Infatti controlliamo la previsione delle piogge con qualche goccia che arriva sul versante tirrenico, qualche fiocco di neve sulle cime alpine di confine, ma al nord non riesce ad arrivare la pioggia. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì sempre molto variabile sul tirreno, anche diciamo con la possibilità di precipitazioni non particolarmente intense, però lì qualche pioggia arriva, e il nord vedrà solo qualche nuova di passaggio, ma più che altro sulle zone montuose. Ampie schiarite invece sull'Adriatico, all'estremo sud, e temperature in tutta Italia relativamente miti, ma pensate, nei giorni successivi saliranno ancora di più, nel weekend supereremo i 20 gradi. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre zone, consultate l'app di Trebi Meteo.